Il progetto nasce grazie all'Istituto Comprensivo 7 di Modena che ha voluto aderire al progetto PON, un progetto europeo e noi come Compagnia dell'Emore, una compagnia di musical, ci siamo proposti proposti attivamente a realizzare un progetto musical, un progetto dedicato ai ragazzi dove per la prima volta questi ragazzi proveranno a salire sul palco e a fare un musical cantando, ballando e recitando. Come si sono preparati questi ragazzi? Abbiamo fatto delle prove a scuola ogni giovedì e ogni venerdì finite le attività scolastiche, i bambini ci raggiungevano proprio in una sala teatro e abbiamo fatto le prove come tutte le migliori compagnie quindi abbiamo creato un gruppo, abbiamo creato delle opportunità per questi ragazzi un copione dedicato a loro e loro si sono appunto cimentati in questo ruolo e in questa interpretazione. Il giorno 21 sarà l'evento conclusivo della presentazione di questo PON al quale noi come IC7 abbiamo partecipato, abbiamo vinto, abbiamo avuto i fondi e i ragazzi hanno avuto 30 ore a disposizione per prepararsi a questo evento finale che sarà un musical dove loro canteranno, balleranno e reciteranno. Che cosa hanno imparato i ragazzi? Beh, è stata una bellissima esperienza perché ha messo insieme nei due moduli diversi del giovedì e del venerdì bambini che appartengono a scuole diverse bambini di terza, quarta e quinta elementare ma anche bambini di prima, seconda e terza media. Questo che cosa ha permesso loro? Di confrontarsi come realtà, sono bambini che appartengono a realtà diverse ma ha permesso loro di conoscersi, di collaborare, di esprimere la loro interiorità e soprattutto di acquisire sempre più autostima. Se poteste lo rifareste come progetto? Assolutamente sì, anzi ci auguriamo che con i prossimi avvisi PON riusciamo ad avere i fondi per poter dare ad altri bambini la stessa opportunità.